Ma buongiorno recuperatrici e recuperatori di libri dal passato. Quando parliamo di Dino Buzzati, parliamo di un personaggio gustosissimo, perché oltre che uno scrittore di romanzi, di racconti, giornalista, viaggiatore, era anche un disegnatore, un pittore, un disegnatore anche di fumetti, e molto spesso nelle copertine dei suoi libri, ed ecco che cominciamo dalle cui squiglie, e quindi cominciamo dalla copertina, molto spesso nelle copertine dei suoi libri ci sono immagini disegnate dallo stesso Buzzati, e questo ne è un esempio, questa immagine, questa mia vecchia edizioncina presa dal mercatino dell'usato e stampata negli anni 60, e poi dopo la copertina fu cambiata, ma nelle ristampe attuali di Mondadori è stata ripristinata ancora questa immagine qui, voluta dallo stesso Buzzati. Apro chiudo una parentesi, perché ho già parlato di Buzzati per un racconto sul canale che si chiama Ragazza che precipita, però per dire quanto la sua importanza di disegnatore, di pittore è stata fondamentale. Lui venne chiamato a un certo punto da Federico Fellini, che un giorno lo chiamò, gli disse, ciccics, vienbo qua, aveva visto dei quadri di Buzzati che lo avevano stussicato, e quindi per la lavorazione di un film di Fellini, che poi non si realizzò mai, che si chiama Il viaggio di Gima Storna, detto Fernè, quindi Fellini chiamò Buzzati perché aveva visto nei quadri di Buzzati delle immagini dei treni con i vagoni a vari piani, quindi diciamo delle sorte di grattacieli a rotelle fondamentalmente, e queste immagini, questa tipologia di treno surreale, appunto Fellini l'avrebbe rivoluta all'interno del suo film, e quindi appunto un pochettino Buzzati collaborò anche con Fellini, quindi per dire la potenza immaginativa. Secondo me Buzzati è uno che dà il meglio nei racconti, e di lui ho letto soltanto due romanzi, cioè il molto noto Il deserto dei tartari, che però non ha presto da strapparmi i capelli, e Un amore. Un amore ha formalmente, stilisticamente, insomma le cose belle di Buzzati, o meglio, il suo stile è uno stile semplice, un italiano molto accessibile e molto scorrevole. Quel tipo di italiano che non ti porta mai a dover aprire un dizionario perché c'è una parola che non si capisce, quindi veramente molto, molto parlato, molto immediato. E questa è veramente una delle cose che lo rendono un grandissimo scrittore, ma questo italiano semplice è sostenuto da un'eleganza e un ritmo come pochi. Ciò che non impazzisco, ciò che non mi fa impazzire di questo libro, in realtà appunto non è lo stile, ma è un po' la tematica in sé. Allora, questo pare essere uno dei libri più autobiografici di Buzzati, e qui risiede anche uno dei personaggi femminili più insopportabili, più falsi che ho mai visto nella mia vita di lettore. Chiedo anche a voi, ciccetti, che mi seguite, se avete mai letto un libro, appunto se avete letto Un amore, e se in confronto avete mai trovato un personaggio veramente più falso, più odioso della Laide, protagonista femminile di questo libro. Quindi Un amore è questo poveraccio borghese, in cui vediamo in trasparenza lo stesso Buzzati, quindi questo personaggio è un Buzzati deformato, quindi Buzzati li rimette a sé stesso, rimette il suo essere credulone, il suo essere totalmente in balia di questa ragazzina, falsa, falsa come la moneta da 3 euro. che lo prende in giro in ogni modo, e anche quando lui riesce ogni tanto a dire, ma come, ma mi avevi detto che rimanevi in casa tutto il pomeriggio, perché è mal di gola, e poi mi sono appostato fuori da casa tua, e ti ho visto uscire, sei uscita, sei uscita, gli riesce anche lì a rifilargli una balla, e quindi riesce sempre a vincerla lei. È un personaggio tremendo, veramente terribile, e quindi così. Quindi questo è uno di quei libri che, per il mio amore per Buzzati, rileggerei continuamente, ma è tanto insopportabile e falsa questa Laide, che probabilmente non lo rileggerò mai, ecco. Perché poi vedere un personaggio così, schiaccia l'anima, cioè, nel senso, ci vuole anche dello stomaco, poi, appunto, a sopportare un personaggio così, a conviverci sulle pagine. Però, però, Buzzati, in un'intervista rilasciata all'uscita del libro, disse anche una cosa, tra virgolette, un po' pretenziosa, però poi, contestualizzata in quell'ottica lì si può capire, insomma, lui disse che, secondo lui, poche persone al mondo vivono veramente, veramente l'amore, dice che gli amori veri sono pochissimi, lui è convinto di aver vissuto un sincerissimo amore verso questa ragazza, questa ragazza, quindi, un vecchiaccio, un vecchiaccio poveretto, che non riesce più a stare al passo coi tempi, che non riesce a sostenere la corsa dietro questa giovane faina, scaltrissima e falsa, e quindi il romanzo, sebbene elegantissimo, è intriso di una vena di inevitabile patetismo, che però ci restituisce tutto quanto il gusto di questa narrazione, proprio perché è filtrato attraverso lo stile meraviglioso di Dino Buzzati, quindi ho parlato di lui qui nel canale, in un video che si chiama Ragazza che precipita, che appunto è un suo racconto bellissimo, ogni libro di racconti, di Buzzati che trovate, fatelo vostro, attenti con i romanzi, perché nei romanzi la questione cambia un pochettino, un amore, comunque un'ottima letteratura italiana, anche per chi si vuole avvicinare a questo gustoso scrittore, e pittore, e disegnatore di fumetti, anche se la luce del giorno è ancora assolutamente dolcissima, io vi ringrazio, e vi auguro una bella buonanotte ciccetti, a presto.